allora ragazzi è una domanda che da tanto tempo mi faccio e penso che tanta gente se la faccia questa domanda probabilmente qualcuno non dorme neppure la notte e la domanda in questione piedi e polvere anche questi aggeggini qui funzionano ovvero i coni per le orecchie funzionano puliscono le orecchie la prova che farò è molto semplice allora praticamente accenderemo uno di questi e lo faremo andare tra virgolette a vuoto qui il lavello e poi un altro lo testerò io personalmente con il mio orecchio e vediamo il risultato è stato semplice no cominciamo ovviamente nel primo non metto la pellicola quella carta 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 l'infrangente lì insomma quella lì avete capito boh cominciamo allora il video poi andrà un po più veloce ora andrà un farido per l'infrangente grazie a tutti e vorrei ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazzi, vediamo cosa praticamente c'è qui dentro. Qui dentro ci dovrebbe essere nulla, non dovrebbe esserci nulla praticamente. Lo compareremo poi con quello che c'è nel mio orecchio. Allora, aspettate che c'è una forbice. Tagliamo qui, tagliamo qui. Ok, praticamente, guardate cosa c'è, ecco, vedete? Vedete, c'è tutta questa robetta qua, vedete? C'è questa roba qua. Questa, che potrebbe sembrare cerume, vedete? Questo qui che buttate qui sembra cerume. In realtà, non è cerume, ma penso la cera di questa, insomma, di questo cono. Ok ragazzi, ora proviamo direttamente nel mio orecchio, vediamo se il risultato sarà lo stesso. Ok, siamo pronti. Pusiamo la testa qui. Sì, vediamo qui da cadere, ragazzi. Sì, vediamo il solito il mulino. Sì, vediamo qui. 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 e vediamo qui. Sì, vediamo qui. Sì, vediamo qui. Sì, vediamo qui. via, 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 via. Cerchiamo di capire. adesso imperiamo facciamo come prima vediamo cosa c'è qui allora da quello che vedo mi sembra che è esattamente esattamente come prima vediamo praticamente nulla guardate questa è la cera che c'era anche prima e questo è il bianco che c'era prima quindi non lo so sono rimasto deluso pensavo meglio ma non vorrei dire ma secondo me non funzionano non funzionano a meno che tu non abbia grossi depositi ma non lo so ditemi voi cosa ne pensate alla prossima